Paura a Montecchio Vesponi, dove una bimba di due anni era riuscita a salire nella macchina giocattolo del fratello finendo in una specie di scarpata. La piccola aveva perso conoscenza per qualche istante e poi, per fortuna, si è ripresa. Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato la bambina in codice giallo al pronto soccorso pediatrico del San Donato, dove è stata tenuta in osservazione per qualche ora.